Ho avuto il piacere di essere presente qui con una mia performance dal titolo Al di là del male e del mare, in cui ho recitato alcuni pezzi, alcuni scritti da me, altri versi di Tagore e di Baudelaire, esaltando sempre il concetto della bellezza che deriva dall'essere nella propria autenticità, quindi al di là delle maschere. Infatti qui ho portato anche una maschera da me dipinta, il percorso per arrivare a se stessi, avendo il coraggio, e ho citato anche Pessoa, di abbandonare i vecchi vestiti, quelli che hanno preso la forma abituale del nostro corpo e l'ora del passaggio. Quindi significativamente anche alla luce, la luce è anche un valore simbolico al momento del passaggio, dal vecchio al nuovo, che poi coincide con il nostro compito di essere consapevoli della vita, della nostra scelta. E quindi in questo considero l'abbandonare i vestiti vecchi. Coincide bene con il concetto di bellezza che porto sempre avanti, sostengo che la bellezza è l'unica rivoluzione possibile, in contrapposizione a Thanatos, che è la distruzione. Infatti sostengo il concetto dell'eros, qui trova anche il quadro sensualità, la sensualità intesa appunto come eros, che è una scintilla di vita. E quindi ci rivacciamo un poco al concetto della favola, che era poi un concetto religioso, della lotta tra le forze del bene e le forze del male. E quindi in questa riunione, diciamo quasi a cerchio, vedo bene questa esaltazione della luce, che si unisce bene all'acqua e al mare, appunto alla Lega Navale, perché l'acqua appunto fluisce e trasforma.